Per me permettete di fare un attimo un intro invece di parlare di Rodin Todding, grazie. Tutterò la sua immagine per fare Yuse. Posso? Si fa che sosserva quanto spacchetto. Yuki e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qua al Nazionale e, come ci sono detto, visto che ho preso il cazzo in una maniera incredibile oggi, 0-4, vedremo il prossimo turno, ma non meno. Oggi siamo qua con un box di Weezoo, un set terribile, e per migrare e fare più Yuse ho deciso di farlo aprire a tutti gli influencer che sono qua. Prima di tutto, Symmetrix mi stavo a dietro. Detto questo, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, è sponsorizzato da Magic Corner, che c'è lo stand laggiù. Meglio Fantasia. Symmetrix e Fantasia ne possono succhiare il quisello, eh. Adesso mettiamola così. Sei un rosso o lo succhio? Lui sei fa la giocata. Detto questo, andiamo con lo spacchetto a me. Oggi ti scocchetto a Weezoo, sì, perché devi masturbare un povero, un povero boxer, mi scusi? Io mi alleno così. Ah, perché senza tipa, sai, almeno lo faccio una volta. Almeno una volta centigrana bisogna fare. Una volta nella vita. Abbiamo il primo pacchetto. Allora, obiettivo fare meglio Divergence, perché ha scelto lui, bisogna trovare la cazzo di collega. Ok, abbiamo. Controlla l'avversario. Sto quoto sincro dei Dino. Buono questo. Rex gigante. Bruciala. No! Bruciala ancora. E Dino! Cazzo, carta di... Le super sono garantite? Sì. Allora niente. Posso avere almeno l'onore di sbustare il mio marino? Fallo, è il tuo canale. Guardate, ragazzi. Come non sbustare niente? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Io voglio hamburger affamato collector, eh. E se non esce, vado da Warcarts e glielo compro. Signor Diego, le posso chiedere un favore? Può aprire una bustina di Weezoo? Sì. Avrei bisogno di un hamburger affamato. Scotta. Scotta morto. Grazie. Qualunque rarità. O la vogliamo collector? Se me lo tiri fuori collector. Lo cucino. Va bene, ha fatto il suo, grazie. Signor Kaibaz, me l'apre? Mi tira poi la collector. Oh, è chiusa davvero, pensavo l'avesse risicillata. No. Io non so come Luca che fa finita di sbustare la roba buona. Scavi fossili. La carta più bella del mondo. La carta più bella del mondo. Mio cugino. Dai, dai. Dai. Questa va male? No, è impossibile diterare. Ti devi diterare? Dai. Ancora non ci siamo. Mali, mali, mali. Almeno trova me, there can be only one. No. Come? Io l'ho trovato. Bravo. Ce ne può essere solo. Signor Virgin, compra le carte della concorrenza? No, non so, la magicco non la prende tutto. Che? Mi deve aprirlo. Me lo deve aprire. Perché? Perché mi deve ritrovare un burger affamato e serve un content incredibile. Ma stai facendo il content del box? Sì, lo sto facendo aprire a tutti. Hai già trovato la Collector? Ancora no, neanche le Ultra. Quante poste rimangono? Ti ho dato il pool e tu non mi dai niente. Quante poste rimangono? Tante, tante. Ti dirò hamburger affamato con la Collector. Ci possiamo provare a pensare? Sì, se esce la Collector e me la sbusta lui, moro. Il video finisce qua. Un CT, che ci potrebbe essere in fondo. Niente. Ah, che... Tanto sei spiegato come la merda, non potevi... Non potevo sbustare la foil. Goddo! Non devi sbustare niente qui dentro. Va bene, va bene. Signor Fabio, lei? Fabio, guai a te se li sbusti la Collector. Mamma mia. Dopo mi dovrei succhiare il pisello in una maniera incredibile. Ma anche una ultra molto costata va bene? Vabbè, le ultra ci sono. Dai, su. Sì, ma tu puoi sbustare quelle di merda. Signor Kaibatz. Niente, è sempre la stessa. Niente? Non abbiamo ancora trovato le ultra, eh? Goddo! Vado dal prossimo. Signorina Chiara, signori confidi. Siete una bellissima coppia insieme comunque, eh? La vera Colossa. Ragazzi? Sì, te hai già aperto, non hai trovato niente. Eh, perché te... Perché te, che sei tanto meglio. Lei c'era già da prima. Per ora al zero, oltre al zero. Faccio vedere la sua abilità nel fare i TikTok di apertura. Ah, non lo saiamo anche tu, perfetto. Non lo sarei anch'io. Versa, a favore di telecamera. Dietro c'è qualcosa, eh? Oh. Oh, attenzione. Niente. Feli, pure te sei una merda. Sì. Goddo! Cambio, io torno dal negozio, eh. Goddo! Ragazzi, poi gli influencer non sanno assolutamente sbustare. Signorina Colossa, potrebbe aprire questo pacchetto di Wizzu? Sì, dobbiamo fare contest qua. Dobbiamo trovare la... All'hamburger collector. È l'unica cosa che cerco. È l'unica cosa che cerco. Questo viene da Magic Corner. È davvero pronto? Sì, dai. Allora. Un rex. Questa. Fascio. Ah, meglio degli altri. Che ci ha fatto? Il Vulk. Lo slancio. Vankish. E il Giga. Ah, neanche Diego va riuscito a trovare qualcosa di utile. Ma neanche una Ultra ancora. No? Quindi ti arrendi? Ma che mi arrendi a sto cazzo, se non ti arrendi? Me lo apri un pacchetto di Wizzu? Ho aperto adesso le buste di partecipazione. Ho trovato la merda. Però qui ti trovo... La cosa, spell... Dino. Seno, ground. Me la prosigliavo. Sono abbastanza sicuro sempre. Sì, neanche Colossa e Diego sono usciti a trovare niente. C'è Colossa? Sì. Dove? Da qualche parte. Trovamela. Eh, lo viste prima. Signor streamer di LOL. Ma lei me lo sbusta, Wizzu? E mi trova l'hamburger affamato? Sì, mi pare un po' di... Hamburger quello... Sì, quello subito. Allora. Ce ne può essere solo uno, molto forte. Mistosauro va a tre. Solda e hamburger. Non ci crede. No. Guarda, invece hai fatto credere un botto. Però c'era la speranza, c'era Collector e la torta. Spero. Anche lui. Vedevi sbustà, hamburger affamato Collector. Quello che trovo non c'era... Colossa non c'era... Se tu hai una Collector io ti ficchio. Quello che trovo me lo sbusti. Si arriva una pregata in basso. Neanche Colossa ha sbustato niente, quindi... Voglio glielo dire, è lui. Che schifo. Misti, cazzo è. È il più alto, forse. No, ho beccato anche il link che stava a 20. Ah, ok. Troppo, è un bel box questo, cazzo. Grazie di aver preso un box di merda. Io c'ho la Collector, non ti preoccupare. Io ho lui Collector dentro. Mangialo. Non devi mangiare. No, è un po' difficile. No, mangialo. Fai come Fabio. Mangialo. Visto? E' qua, mi sei portato a casa. Oh, visto che siamo in tema... Non so se vuoi. Ah, vuoi... Siamo in tema... Eh, è un uc... Stai registrando. No, REC. E' un uct. E' un uct quello. Aspetta, dobbiamo tirare fuori un altro misto. Ah, ok, tu dici. Vai. E' facile tanto tirare fuori misto. Non c'è misto. Non c'è misto. Niente. Riproviamo? Eh, oh, gli è partita l'europatia. Attenzione. Gli è partita l'europatia. Io, io, io. Allora. Obiettivo è trovare misto d'auro common per poterlo mangiare. E' raro. E' raro, non è common, ma va bene. Eh, vabbè, oh. E' più salato. Eh, salato. Cazzo, niente misto. Calga. Lui produce le bustine. Vedo il giocatore di... Ma sto visto, Saura? Eh, niente. Per adesso mollo. Poi vediamo se qualcun altro decide a trovare misto per divorarlo. Ma mangiate UCT a sto punto. Quale? UCT. Alternate Conducto Tairano. Tocca. Tocca per il content. Lascia di sticca. Mangio un UCT che sa di bidone. E' buona? E' perché lui è grosso. UCT è grosso. Cerirò. Forse è più buono. Ma no, la pavetta. Che schifo. Gesù santo. Anche qui. Devo ammettere che sono meno chi mi crede. Ma no, la U1 sono l'ara. Eh, sì. E' un'altra con un po' di merda. Fede, sorridi in camera. Che schifo. Hai da aprire questi tre pacchetti e una testa. Togli, pagare, pagare. Cioè, mi spesso le ginocchia a tutti e tre. Allora, voglio un hamburger affamato Collector. Dopo la gara di Collector. Io mi prendo questa, vai. Come ci sono arrivate, così le prendiamo. Sarà incredibile il fatto che Tempa ha partito una volta in video, non sul nostro canale, ma su quello di un altro canale. Sì, infatti questa cosa. Questa è misterizia. Mastraggi in caffè. Bene, dai, diamo un piccolo bacino. E qua troviamo la bonus. Sai che cosa c'è? Angry Burger Collector. Preparazione di... Madonna mia, raga. Si gioca Angry Burger, si gioca. Incantesimo. A me era meritorio. Rex Gigante, Rare. Allure of Darkness. Little Zagim, il terzo. Posso giocare Dino adesso, finalmente. Candella Bombola, non so che sia Bambola. Uella! Bella, mi serviva solo il contenso. Siamo alla terza. Dai, vada. La pillola del giorno dopo. Nuovo Dino. Questo sembra un mostro normale. Bex. Sì, sì. Che vero te. Che vero te. Che vero te. Che vero te. Allora. Non è simile. Allora sì, eh. Eccolo lui. Frostosauro. E niente. Dai, sì. Un minimo. Come al solito lo scuro, ragazzi, passa sempre per queste mani. Sì, va bene. Dai. Io so brutto, guarda quanto è bello. Il Rex, il Frosto, gli Scali, ragazzi, vende Basedino. Questa carta è la strada. La carta che dopo strappiamo insieme. Non credo, abbiamo già mangiato un Mistosauro. La carta che strappiamo è la Collector. E invece no, il Cornutone. Ragazzi, qua io, C-Matrix, siamo qua per stalkerare Stormdun, aspettando che finisca di chiacchierare per fargli aprire una bustina di Weezoo e fargli trovare effettivamente la Collector. Chi sarà la Collector? No, no. Chi sarà? Chi potrà la parte, che cosa? Aspettiamo, scontriamo per bene e poi vediamo. Signor Stormdun, ma mi apre una bustina di Weezoo? Sì. Mi apre una bustina di Weezoo e mi trova la Collector? Mi devo aprire una bustina. Ragazzi, sopravvissuti selvaggi, attenzione, cappello di paia ci consente di aprire una di queste bustine, sicuramente sbusteremo, non ve lo dico perché se no, ragazzi... Allora, hamburger affamato, assolutamente, necessaria. Collector. Collector, eh, mi raccomando, ragazzi. Allora, iniziamo. Vedete? Allora, mi raccomando, la tecnica di sbustaggio è questa, piano piano, ragazzi, con calma, perché le buste della Konami sono fatte con una plastica molto, molto, molto delicata. Per cui rischierete di rovinare le carte. Sì, non escono già smintate. Ok, a meno che, ovviamente, magari con uno schizzo bianco, come è successo anche in altre edizioni. Poi le prendete, le aprite. Adesso io qua in questa edizione, ragazzi, non so quali sia la collector, penso l'ultima. Sì. Ah, ok, l'ultima. Per cui, noi giriamo. Ecco qua, presa in questo modo, ragazzi, vedete, così blocchiamo ai lati e tutto quanto e tiriamo su in questo modo, pazzesco. Prenda, perda, un secondo. Incredibile. Questo è importante. Mi hai mandato, eh. Me l'hanno chiesto prima. Non è una buona pre-pressione. Non è notato il portamento. Eh! Non l'ho chiesto prima. Incantesimo. Fascino dell'oscurità. C'è ancora una carta, ragazzi. Eh, no, è una merda. Tu mi devi succhiare il pisello. Tu mi devi aprire subito questa postina di Weezoo e trovare, come cazzo si chiama? Hamburger affamato, eh. Voi troviamo una Burger Collectors. Ho capito subito quale volevo. Oh, vediamo, vediamo. Abbiamo un Dino. Sbrigate che si sta scaricando la batteria. Tac, 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 tac. Stai perdendo la batteria. Tac. Eeeh, male, 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 buuuu. Quanti avete trovato per adesso? Tre. Eh, vabbè, mi dispiace. Guarda, aspetto il tuo, eh. Eh, so, tieni, tieni. Ragazzi. Buongiorno. Siamo passati dieci anni dall'ultimo video. Eppure, credibile, è successo di nuovo. Posso andare? Sì, vai. Cerco hamburger affamato collector. Mondo perduto. Che merda. Eh, merda. Beh, io, io ho sempre sbustato un'altra nella mia vita. Non è che puoi pretendere che ti sbusto qualcosa di carino. Vabbè, ce l'ho sperato. Una streamer donna. Eh, però io non so fare quella roba. Non importa, non importa. Aspetta. Aspetta. Sta già che ci stando? Sì. Ah, che no, io voglio. Eh, no, perché devo aspettare che... Bisogna fare content con una ragazza. È maschilista come discorso? Perché niente. Io non so fare quella roba là, quindi farò... Ah, vabbè. Dove la trovo? Oh, abbiamo trovato un altro di lui. Oh, un altro di lui? Sì, a posto. Ciao. Ragazzi, questo è l'ultimo pacchetto di questo incredibile box. Non abbiamo sbustato niente di mano. Tanto il ragazzo che ci ha sbustato la carta che voleva e basta. Però tutti i nomi che sono qua dentro mi permetteranno di fare 3.000 euro. Quindi grazie a tutti quelli che sono anche partecipati, soprattutto Colossa che è comunque un'unica ragazza. Bisogna un applauso al fatto che anche in un mondo che riprendi, di cazzi, perché guarda, faccia tazza di palle ovunque. Grandissimi cazzi. Comunque gioca a Yumi. Anche se comunque rispetto agli anni passati c'è molta più tollo. Detto questo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, non c'è niente. Infatti, ragazzi, grazie mille per aver seguito questo video. Vi ringrazio come sempre per essere qua e seguirmi nonostante io... No, non eseguiremi basta. Detto questo ragazzi, state misi e noi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.